Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O San Luigi Scrosoppi, luminosa stella che guida i nostri passi, nel buio della vita terrena, rivolgiamo a Te le nostre suppliche, con cuore umile e fiducioso. Tu, che hai dedicato la tua esistenza, al servizio degli ultimi e degli emarginati, ispiraci a seguire il tuo nobile esempio, di amore e compassione. Guardaci con occhi misericordiosi, mentre ci sforziamo di imitare la tua dedizione, verso i più bisognosi e vulnerabili. San Luigi. Tu che hai fondato la Congregazione delle Suore dell'Addolorata, per alleviare le sofferenze del mondo, intercedi per noi presso Dio, affinché possiamo trovare la forza, di abbracciare con amore gli afflitti e gli oppressi. Aiutaci a comprendere, che ogni atto di carità compiuto verso il prossimo, è un dono offerto direttamente al Signore. Ti preghiamo, o San Luigi, di essere il nostro guida e il nostro sostegno, mentre camminiamo lungo il sentiero della fede. Illumina le nostre menti. Con la tua saggezza infondi nei nostri cuori. La tua gentilezza e la tua compassione. Concedici la grazia. Di imparare dagli esempi luminosi della tua vita. E di mettere in pratica i valori evangelici. Che hai così amorevolmente incarnato. San Luigi Scrosoppi. Protettore degli ammalati e degli abbandonati. Ascolta la nostra preghiera. E sostienici nelle nostre necessità. Con il tuo aiuto. Possiamo vivere con generosità e solidarietà. Testimoniando l'amore di Cristo in ogni gesto e parola. Con te come nostro intercessore. Confidiamo nel potere della grazia divina. Per trasformare il mondo con amore e compassione. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Luigi Scrosoppi. Prega per noi. Prega per noi.